E' proprio strana, secondo voi con la diarrea è meglio un kindermaxi o un danetta alla vaniglia? Marzo, penso che sia meglio un bel limone nel culo. Gianchi, hai visto su qualche sito di beta quanto è quotato l'insulto a Forleo questa sera? Boh, 2,0,1, cioè, perché non ti dai tuoi soldi. Dai tuoi soldi, ok, allora niente, non me lo gioco. Forleo ti ammazzo, eh, stai attento. Non dovresti, secondo me. Io non la stacco le borse, raga. Tu la devi smettere intanto di essere un misogino maschilista di merda e offendere sempre le streamer donne. Lo sono, lo sono, lo sono, e sai perché, Masseo? E devi andarne fiero. E sai perché, Masseo? E che sono gay e quindi devo mascherare questa cosa. Non è così che si fa, non è Let's Goalski. No, non è così che si fa. No, no, non è così. No, non è così che si fa. C'è questa donna Marzone, Marzone, ma perché tu non mi empi la bocca di sborra? Ma io lo voglio fare. Non è così che si fa oggi. È così che si fa oggi. Nel torneo che ho fatto ci stava anche Marinovski. È entrato nella lobby di Discord, ha fatto buona fortuna a tutti ragazzi. Let's Goalski, mi raccomando, do attenzione a non tornare in lobby, sperando che non sia io quello a farlo. Io sotto il messaggio mio era ve lo prendo a tutti nel culo. È inutile quello che scegli, perché tanto queste sono le nuove gare in multiveicolo dove cambia la macchina a rato. Nuove. Ti prego, non dismi che sono diverse. Come non le ho mai fatte? No, 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 ognuno ha una macchina diversa e quando switcha la macchina ti switcha in altre robe diverse. Quindi potenzialmente se a te ti darò tutta roba lentissima tu arrivi per forza ultimo senza poter fare nulla. Ah, a tutti diverso? Ah, ma puoi anche tipo trovarti il trivellone? Sì, 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 ti puoi trovare su. Oddio. Sì, 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 le voglio vedere. Apri, apri, apri. Marzone, no, di qualcuno. Ma cazzo si apre? Devi partire, già ma... Te voglio distrarre per non farti partire velocemente. Non so partito io. Ragazzi, non gioco un uomo della troia. Cammello calvo, devi stare molto tranquillo. Ma perché dovete farlo? Eh, no, ragazzi. Ma che è sto slow? Ah, se non mi metto dritto come dice il gioco, sono morto? Eh, ma... Cioè, non capisco che sei così. No, ma lo avete dovuto per colpa di Giulia la troia. No, Dark Dios non l'avete capito. No, ragazzi. Oddio, carine però queste. Bel nome, eh, Giulia. Bel nome, bel nome. Ah, ah. Cazzi, cazzi. Tu hai sempre buttato. Cazzi. Ma non è bello. Cazzi. Parola in più dei video che lo dimostrano. Cazzi. Guanciale fresco che mi viene addosso, dai. Guarda, ma se tu mi prendi l'acciaio... Oh. Oh. Giulia la troia. Giulia la troia. Giulia la troia. No, 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 no. Ti capisco, sono davanti a te. Sì, ma per un cadavere per terra sono esplosio. Ah, Fabio Molura primo. Però, eh, non sono più primo, non ti preoccupare. C'è uno che mi ha fatto tappo. Ragazzi. Ma comunque questa gara non era di quelle là che ti dà le macchine diverse, eh. Eh, no. Ma che ha messo quel pezzo di merda? Topo ti, topo ta, topolino. Oggi, oggi stavo ascoltando la musica tutto gasato. A una certa mi parte, avevo la playlist a rotazione, mi parte la ghigliottina, raga. Quarto. No, no, quarto, quarto, quarto. Deve stare al cilio. Ma che ampi, dai, lo ismi, non l'ho mandato all'aria. Ah, io non arrivo, io non arrivo. Io non arrivo per colpa di Giulia la troia. Ah, Giulia la troia. Giulia la troia. Dai, dai, Giulia. Giulia la troia. Comunque, chi ha bettato sull'insulto di Forleo ha appena perso dei soldi. Danette, te lo prendo il culo. È troppo buona. Madonna. Io non so che cosa ho messo. Ragazzi, è partorresco. Madonna, Giulia la troia è bruttissima. Ma perché mi devi venire addosso, guanciale fresco, quella figlia di tu guante, buttano a troia? Eh, ragazzi, con calma, sono messo al muro, mi potete scopare tranquillamente. È lentissimo sto coso. Max, fammi girare. Eh, no, ragazzi, non è possibile. Guanciale. Ragazzi, ma hai trotto il cazzo, eh. Bro, so ultimo. Da secondo a primo. A ultimo, a ultimo. Chi mi di toglie le po? Con la vespettina, poi potresti passare? Bombo, ma anche clat. Bombo clat. Bombo clat. Bombo clat. Oddio, davanti c'è Giulia la troia. Vieni qui Giulia la troia. Cammello. Devi stare gianguillo. Oggi avevi venuto anche Ciccio che giustamente ci si è lamentato pure lui. Mi è venuto a scrivere. Eh, voi stessi bestia. No, ma perché intendeva una... Cioè, diventai... Il dio delle bestie. Dio bestia. 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 Però tu pensa per fancazza a Ciccio. Stava a chillà, là. Dove sei? Dove sei? No, ero capito. Sei in mezzo a Giulia la troia. Io vado fiero di non giocare a questo giro. Ma sta giro della taglia? Se sta a giro a tutti, eh? Però te lo giuro, c'è proprio non... Non la sta ben nominando tutti. Insensata, dici non ci credo. Non ci credo l'avevo fatto. Ma aspetta che sono riuscito a fare la cosa della motorettina. L'ultima cerca di te! No! No, troppo in là. Fabio, Fabio, Fabio. Ho riuscito a fare la motoretta, raga. Ragazzi, ma c'è un World Ride. Ragazzi, altri due. C'è il World Ride. No, c'è il World Ride. No, vabbè. Sono grande. Siamo fragili. Vabbè, vabbè, dai. Io sono... No, non ho preso più pre... È in solta! Ragazzi, non è una gara di sdrogo. Cosa deve l'Asian, cioè... Ma che cazzo deve l'Asian, ma è dritto. Ti prego, frena! Dio! La fretta! È cazzo di gara! Dici, non sono abbastanza sdrogo? Sì, perché se lo faccio piano so che lo posso fare. E allora lo faccio veloce. È 33% Ebola, 1% sdrogo e 45%... No, dai. Nena, coi due... De Diana. Come si fa di sb... Cioè... E di sborrare? Disbo, 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 disbo... Frena! Nena... Forleo ha vinto. Forleo ha vinto. Forleo, non continua a non capire che lui non deve arrivare alle corse. Sono arrivato, ce l'ho fatta. Arrivo secondo, dai! Siamo fra... Ah, io sono ospite speciali delle corse e mi merito questo. Boh. Capisci? Hai ragione. Hai ragione. Quanto dura sta gara, regà? Ti giuro, non ce la faccio più. Non ci credo, io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Dai, crederci sempre! Mollare mai! E va subito a vede Giancorre degli estremi. Madonna, Giancorre degli estremi? Comunque è addirittura da... È questa? Ma che cazzo è... È questa? Ma se vai a Fagot, GTA non fa per te emoji della scimmia. Quattro coppe in faccia, tranquillo! Eccoci qua. Ma io non arrivo! Eh no, non arrivi Fabio, perché siamo arrivati in otto. L'ottavo era Momo a quattro ruote. Cosa devo fare? Spingi gli avversari fuori dalla zona di sicurezza. La safe diventa sempre più piccolina, eh? E ovviamente ti spingono i pezzi di coglioni di merda, bastardi. Ma dovevo andare di là? Sì. No, ragazzi, mi stanno buttando fuori. Smegma, man. Giammo. Eh, perché non aveva raggiunto la zona di sicurezza. No, non gliela faccio. No, mi stanno portando fuori, cammello di merda! Poi il globo sgozzo di saltare al silos. Sono arrivate delle vigliacche. Ragazzi, formazione a testugine. Oddio! Ma la macchina tua è un tucker hacker. No, sono caduto, ragazzi. Ne ho buttato fuori uno. Eh, ma ragazzi, siamo messi male, eh. No, Giammo. No, Giammo. Senti, ragazzi, Giulia la troia. Giulia, sei una puttana di merda. Sei una troia. Manu e Max. Sei una schifosa troia. È uno di cinque. È uno di cinque. Manu, clash or kick. Stadium, è impossibile. Ma 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 tiens. Va all'imps. Up. No ma 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 ma. Buttate tutto sotto leo, ragazzi. Sono presi il centro, ragazzi. Sono presi il centro. Ma 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 ma. Up! Puttiamo fuori i forleo. Puttiamo fuori i forleo, ragazzi. Buttalo giù, Dark Andrzej. Vai a fare il culo. Io trovo il merda. Ecco. E' fame il maestro, li ho mandati tu al bar. Uno al bar, eh. Giulia la troia l'ho buttata sotto. È il maestro. No, per un pelo Non può entrare Non può entrare Non può entrare Formazione a freccia Formazione a freccia 4-1 ragazzi Ragazzi no Ragazzi Ragazzi io l'ho Ucciso cammello Letteralmente non si è fatto niente Ragazzi ha fatto lo Shiratensei cammello Io gli sono andato in culo Ragazzi non ne è successo niente Ragazzi ma sta citando È imbarazzante No però sta citando veramente A freccia Formazione a freccia Ragazzi Ragazzi Un altro è caduto Sono caduti tutti Sono caduti tutti È morto un altro ragazzi È morto un altro dei nostri Sono morto pure io Ma puttana merda Mi ha tirato fuori Dove erano tutti Ragazzi ma uno si è suicidato dei nostri Ma questo che non può morire però non è normale Quella di prima ragazzi era vinta Cioè era 4-1 E il partito Lo Shiratensei E siete morti tutti Te fa pure il polletto Capito Te fa pure il polletto C'è uno che sta facendo tutto slalom Per andare incontro Ah ho capito Ma se Ma se Va bene Ho superato 59 persone Va bene Ho capito Ho capito cosa ti succede adesso Mi dispiace non ero io Non ero io No no eri tu palesemente La vedi questa bella curva Massè Un fenomeno No ma io volevo prendere Ma cara bacca Ho capito zio Putin Ho capito che tu C'hai 24 Però Eh madonna Che cazzo è Guinness World Record Eh sì Uno che non voleva vincere Probabilmente il mio scherzo Non voleva Terzo giro su 5 Guarda che si è creata una bella bagarre qua davanti Boh Boh cammello veramente Che è il coglione Che mi viene addosso A posta Io Da me adesso la gara è finita ragazzi Io chiunque incontro Non mi gira più la macchina Mi ha spasciato in davanti Mi ha letteralmente aperto in davanti Ma l'ho tirata a Imola Ragazzi io sono primo Oddio c'è il Masseo qui Sì 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 Sulle Formula 1 faccio sempre i comeback dell'anno No no Mi hanno rotto tutto Tutto Sì ma ragazzi Mi ha guida come un carcerato Madonna Ma chi è volato Madonna del Dio Ma che goduria Vai 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 Vieni 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 che andiamo via Ah ho capito Ho capito Da primo Da primo a sesto Perché qualcuno mi è venuto addosso Bello Secondo quindicesimo Divertente Bello Bellissimo Da primo a settimo GG Va bene Ah è stato Gianmarco Ho capito Gianmarco È finita per te No è finita per te Fabio mi devi ascoltare No 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 Io non ti ascolto No Fabio mi devi ascoltare Dimmi Mi sta laggando tutto Ti sei accasciato a un lato Nell'ultimo rettilineo E mi sei respawnato davanti Dentro la macchina Ti ho toccato il culo E ti ho segato No ma perché Lo faccio così Ma perché Ragazzi Ragazzi ma qui non si vede nulla Oddio per la prima volta In una face to face Non sono stato segato Eh ragazzi c'è un problema Vai vai Gianmarco Ti prego Ti prego Ma guarda ti li sto segando tutti Ma guarda ti li sto segando tutti Ti prego Io sono la testa Ma se mi fate arrivare Sono io il disturbatore In questo momento Se mi fate arrivare Babbo di minchia Ma che cosa fai No Gianmarco Tucco Gianmarco Tucco Ti prego Ragazzi sono arrivato Non ci posso frenere Sono il sub di famiglia Il maipazzo Madonna ma se non vedo un cazzo Con te dietro Vai maipazzo No ci vuole mai Aia Aia Non ti può fare Aia Aia Quella mi sfide Troppo Ti proverò e rovinerò la tua vita Oh Maria Oh Maria con questa è brutta Ma non ti volevo stivare Ma non ti volevo stivare Ma non ti volevo stivare Com'è Con la mitraglietta di Cali Madò Ragazzi sono un fungigino Non ero un trapanatore di merda Eh Giulia la troia Marzo 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 Non ho fatto niente Brutto bastardo Ma se non c'era neanche il nome Come è venuto il bod Guardate come mi sono buccato qui dentro Io che cosa faccio Io che cosa faccio ragazzi Non posso ne scendere Né salire Tredicesimo Aia No Madonna Perché io c'ho sta sfiga ogni volta Adesso riesco a farcela Hai capito Immaginati che io ero secondo No Dark Diego Ti prego Dark Diego Ma puttana merda Madonna ragazze Adesso non avete capito Io c'ho il perforatore Voi Ducro Vi trapano il buco del culo Sono un pezzo di merda La verità Sono quindicesimo Sono ultimo Sono ultimo Sono ultimo No 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 Io impazzisco 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 Che c'è? Perché mi devi venire addosso? Ma non è che? Sono ultimo Perché? Sono ultimo Frenze Te fermi Tu è quella troia Di tua madre Ma Roma No non passi No tu non passi No Giambò Sono io Magari ti viene la sciabbarabba Poi Ducro Quando ti mangi Quel cibo del cazzo No magari ti mangi Le zanzare fritte Poi Ducro Sprizzo veramente Niente c'è Da quarto a undicesimo Io non ho più niente da perdere No Gianchi so io No no so io Gianchi Poi Ducro Non arrivo Non arrivo Non arrivo Perché mi hanno fatto muro Non arrivo Da quarto a Non arrivato Giulia la troia Ducro Domani ti tiro Tanti di quei pugni Sulle costole Ducro Ti ammazzo Vedo la prima donna Con i capelli rosa Ducro Con la sfonda Ducro Di cazzotti No 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 Ragazzi ma hai eliminato il gioco Il maestro Ma in che senso Ma non starà mica A mettere la stream E se mette la sua cam Sulla mia Ma ha quitato il marzone No non è quitato Ah ok Passa alla prende bene Alla prende l'acqua Metto l'autopal Non te esiste C'è Madò sto buco Stavo per prendere un palo incredibile C'è questo per venire addosso A me si suicida Ma che cazzo fa Ti prego ti prego ti prego No no È difficilissima questa parte Mi piace un po' Fibro questa No 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 che cazzo fai Mi madre Mi madre Mi madre Ma che vai Eh vabbè ragazzi Te lo meritavi dai Te lo meritavi Te lo meritavi Te lo meritavi Ma un po' Ma un po' Meglio la gara di sempre Io ero terzo Non è meglio la gara Cioè se vieni distrutto una volta Poi perdi Io te lo metto nel culo Eccoci qua Ma tanto ho chiuso il gioco Allora No 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 Ma io non sento più mollo Ma non c'è feo Ma ormai Ma qui dove stai Che cose stai Sto laccando Sto laccando Io un po' si Ho notato Sono andato fuori Cioè non fa nulla Passa Semplicemente prende Accelera Mi distrugge Madonna Zio P Eh io non vado indietro Beh Ho capito Giulia la troia Cioè veramente due di più 600 kg Sei un ipopotamino Proprio Devono arrivare in sette Devono arrivare Io non ci credo che Momo Quattro ore Ti è arrivato prima di me Mi sento veramente In questo momento Mi metto in discussione Ma guarda se devo andare Se devo andare Voglio dei Spritz Kevons Che fai Madonna l'agonia è finita No vabbè Il cammello mi ha appena addobbato Ma perché 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 Ma perché Non lo so bro Ma l'ho spinto da dietro Oh Fabio Fuggire Fabio Fuggire Fabio Andiamo con macchina super rossa Chi è No ragazzi È Spritz Kevons Zio Putin Già ma ma che è successo Oh capisco Spritz Kevons A sinistra eh mollura Oh Baby Oh Giulia la troia Veramente Veramente No non è quella Ma guarda quanto cazzo siete Capisco Ok va bene Va bene Va bene Eh bro Ti vorrei dire anch'io Il perché Perché c'ho Due bastardi infami Che mi spingono da dietro No rega qua dobbiamo fare un po' Piazza Mano 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 Ferma ferma E vabbè Ma che è successo Regà Non passi 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 Non puoi entrare Ah ma io sono arrivato Sotto mollura Sono arrivato Mamma mia mi seguo Non passi Paga betta Paga che ho vinto io Perché per me l'ho vinto io Che vuol dire Momo quattro ruote Vince l'elenco Ha vinto Momo Ah Fabio Molura ragazzi fa Non mi fa passare per arrivare sesto nell'elenco A testo Sesto Non averci vinto comunque Conto la nuova macchina De rocket league Si sta bene Fabio Molura ha deciso Che la sua sessione Sesta posizione era troppo importante Me lo tiro di fuori Che bello di numero uno Grazie a tutti.